ben ritrovati amici di Radio Rosso Nera ci ritorniamo con la situazione sulla possibile cessione di AC Milan ci siamo lasciati negli ultimi weekend con Invescorpo che faceva la parte del Leone anzi in realtà era l'unico soggetto a noi conosciuto per il possibile passaggio di AC Milan da Elliot a Invescorpo appunto e invece nel giro di un paio di giorni gli ultimi due giorni si è fatta sempre di più strada l'ipotesi di Redbird abbiamo in collegamento con noi Marco Scotti di Affari Italiani Marco ben ritrovato passo Radio Rosso Nera ciao 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 Simone ciao a tutti che ha scritto nel pomeriggio di di quest'oggi venerdì un articolo dove forse fa intendere che ci sia stato un sorpasso a questo punto della situazione e sì guarda abbiamo raccolto delle informazioni anche piuttosto attendibili e per cui a fronte di un'offerta che sarebbe leggermente più bassa di quella di Invescorpo che era intorno al miliardo e due miliardo centottanta milioni più o meno ci sarebbe invece questa offerta del fondo Redbird per circa un miliardo ma la differenza sostanziale è che lo darebbe tutto cash mentre invece pare che Invescorpo volesse fare una parte con azioni o dell'Invescorpo stesso insomma con qualcosa di collegato e l'altra parte invece cash quindi al momento Elliot sembrerebbe essere più orientato verso Redbird volendo avere insomma come dire un'uscita comoda realizzando anche una bella trasvalenza oltretutto al contrario di Invescorpo che non ha grandi conoscenze per essere nel mondo del calcio invece Redbird si ha sia calcio che sport in generale quindi magari potrebbe essere un vantaggio per il Milan stesso guarda io penso che vedendo anche come si sono sempre mossi dal fondo Elliot in questi anni di presidenza del Milan sono sicuro che abbiano anche molto a cuore insomma che si mantenga un livello di competenza piuttosto elevato Redbird comunque l'anno scusami due anni fa è entrato in un fondo che detiene il Liverpool detiene i Red Sox detiene un'altra squadra del New England quindi comunque ha sei miliardi investiti in asset sportivi sono degli esperti di sport invece Invescorpo è un fondo di investimento un pochino più tradizionale se vuoi meno orientato a eventi sportivi e appuntamenti sportivi a squadre e di conseguenza forse questo fa un po più un po più paura insomma probabilmente ma quindi che futuro ti immagini per il Milan diciamo così differente rispetto a quello che poteva garantire Invescorpo e ti immagini qualcosa di diverso per il futuro ma allora guarda devo dirti la verità con Invescorpo secondo me avremmo assistito per assurdo a degli investimenti scusa il gioco di parole un pochino più pesanti nell'immediato secondo me un po sulla falsa riga di quello che è stato fatto con altre proprietà emiratine non mi sarei però aspettato una cosa alla Manchester City o PSG insomma c'è investimenti potenti per anni e anni e anni Redbird mi sembrano invece proprio per la loro competenza per il fatto insomma che non hanno alcuna intenzione di arrivare di buttare soldi a palate tutta la questione anche dello stadio che ancora va risolta perché anche quello è un verrebus comunque su cui bisogna capirne di più si fa sesto non si fa sesto si fa in centro con l'Inter cioè sono veramente tanti tanti punti interrogativi secondo me Redbird sarebbe ovviamente usiamo tutti i condizioni del caso ma sarebbe la soluzione migliore proprio perché sono più abituati a gestire partite di questo tipo. Ma quindi secondo te la possibile vittoria chiamiamola così nella corsa a due tra Invescorpo e Redbird sarebbe anche un po' influenzata dal fatto che Elliot preferirebbe la seconda soluzione quella americana rispetto a quella araba per il tipo di offerta e di soggetto che è Redbird. Secondo me sì guarda alla fine Elliot comunque ha investito nel Milan 780 milioni se veramente accettasse l'offerta di Redbird di un miliardo cash si ritroverebbe con una plusvalenza di 220 milioni che insomma credo che non non dispiacciano nessuno ovviamente magari invece Invescorpo gli potrebbe garantire una cifra paragonabile a quella investita quindi sui 750-800 milioni cash e poi il resto magari in azioni quindi vorrebbe dire comunque Elliot dovrebbe ancora procrastinare la sua uscita visto comunque un fondo visto che comunque da qualsiasi investimento deve sempre guadagnare per garantire una remunerazione ai suoi azionisti penso che dal punto di vista finanziario abbia più senso l'operazione Redbird e poi ti ripeto secondo me il fatto che comunque sia un fondo competente in sport che sappia come muoversi che abbia anche gestito tutti i palazzetti americani che sono molto più belli di quelli italiani e abbia anche al tempo stesso avuto a che fare con la Cop e con il Liverpool insomma credo che li qualifichi molto meglio e siano molto più pronti anche per entrare in un sistema complesso come quello del calcio italiano. Ti faccio un'ultimissima domanda pensi che si vada verso fine mese quindi verso la fine di maggio a stagione calcistica conclusa? Immagino di sì sicuramente anche perché penso che banalmente sapere se ci si ritroverà con un Milan campione in Italia o non campione in Italia cambia non dico la trattativa perché il valore più o meno è quello lì però cambia anche un po' l'idea anche un po' romantica che Elliot si congedi da Milano con lo scudetto portando insomma in dote un premio così oltretutto cioè non dimentichiamoci che si era partito da Yong Yong Lee che era insomma un personaggio un po' diverso un po' meno solido come poi sappiamo in quattro anni hanno oltretutto fatto una grande pulizia dal punto di vista del bilancio si è passati da un rosso pesante a uno decisamente più sostenibile generando cassa cioè è stato fatto un gran bel lavoro se Elliot si andasse vincendo lo scudetto sarebbe veramente la ciliegina sulla torta quindi io presumo che si aspetti a questo punto la fine di maggio per poi arrivare alle firme. Marco ti ringrazio per essere stato qui con noi alla prossima e grazie grazie mille grazie a voi e a presto è stato un piacere. Ringrazio Marco Scotti di Affari Italiani e vi do appuntamento a quello che sono i prossimi appuntamenti di Radio Rosso Nero ovviamente il prepartita delle 19.45 per Verona Milan. Alla prossima.